e bella raga ciao a tutti guardate qui manca poco per il brawl talk mancano 18 minuti poi siamo con lilli per il brawl talk o mio dio brawl talk miau c'è scritto solo brawl talk miau quindi vabbè sicuro c'è un nuovo brawler gatto e non ci resta che aspettare le 17 perché adesso sono le 17 e 42 chiameremo anche il agio se ci sta e poi inizieremo a vedere il brawl talk raga quanto sono in hype visto che voi state vedendo questo video dopo il brawl talk fatemi sapere cosa ne pensate potete commentare anche adesso oppure commentate dopo che ho reagito io oppure se l'avete già visto fatemelo sapere quindi raga non ci resta che aspettare raga e ho chiamato anche ilario perché quest'oggi lo vedremo insieme live bella raga oggi lo vedremo live mancano ebbè come dire i player di brawl stars come fanno a non stare tutta anche se mancano anche se manca un'ora davanti al brawl talk come fanno a non starci ci stanno per forza quindi noi ci stiamo mancavano 20 minuti quando ho attivato il video attivato ma perchè è cambiata l'immagine raga raga ci siamo mancano due minuti solo due minuti hype 60 secondi raga ne fatemi analizziamo un attimo ma perchè perchè sotto sta scritto star force season non è che non c'è più il brawl pass ma che no 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 prego va che succeda sarei il papino più felice del mondo ovviamente lo shopperò il primo giorno ma ci sono schemi spaziali giusto ragazzi intravedo guardate ma che meno che si sta in 1 di 60 secondi e poi arriva la musichetta a caso ma che a caso raga guardate perchè lì c'è un ci sono due warning poi vabbè vicino alla luna ci sono due ossi ossi del cane e poi perchè la sagoma del nuovo brawler è cambiata che cosa sta a significare due e infatti in effetti nel brawl talk in effetti raga nel brawl la premiere inizierà a breve in effetti raga nel come si chiama nel brawl talk di Byron non c'era la sagoma di Edgar c'era solo la sagoma di Byron quindi potrebbero effettivamente essere due un cane e un gatto perchè quegli ossi del cane lì come mi li spiegate? anzi o un astronauta o un cane un cane spaziale ma poi raga vicino al warning che sta se non ho problemi mentali a sinistra perchè ci sono dei barattolini quelle cose lì cosa sono? e poi lì intravedo un aeroplano ma credo sia il ma io vedo un aereo eh pur io lo vedo ma credo sia un volante non un aereo credo sia un volante tipo qualcosa per manovrare la la navicella non può essere un aeroplano e poi dietro la sagoma dell'uomo brawler ci dovrebbe essere tipo una piattaforma non lo so non lo so sono le 5 sono le 5 ma te sono le 5 ragazzi sono le 5 vabbè voi commentate scrivendomi se l'avete visto perchè ovviamente voi lo vedrete dopo Niccolò cosa è quello? cosa? ma è è è è la schermata iniziale Matt guarda qui la premiere inizierà a breve Matt ma tu non stai guardando ecco sta caricando oddio Matt ma perché tu sei 30 a secondi dietro noi già siamo a 2.30 vai avanti 2.30 2.30 2.29 wow un gatto allora ragazzi analizziamo anche noi allora ragazzi allora guardate analizziamo l'immagine con questi due minuti che abbiamo allora ci sono varie e questa ambientazione mi sembra identica e uguale al trailer di Brawl Stars no è quella poi intravedo delle casse di TNT un gatto nero un altro gatto nero un altro gatto nero gatti la sfiga la sfiga la sfiga sta arrivando perché il gatto era nero poi intravedo intravedo anche una sagoma di bombardino con due delle sue bottiglie c'è una caverna immagino che sia la ma in una cava da te da te siamo a un minuto e venticinque tu anche vabbè raga calcolate che io calcolate che io il lago lo sento un secondo due secondi dopo da quando parla quindi mamma mia raga allora se mi senti due secondi dopo quando io sto parlando e finisco di parlare saremo un un minuto due uno un minuto raga ci vediamo un attimo quando ci vediamo un attimo agli ultimi dieci secondi sei cinque quattro tre due uno ila io sto più indietro quindi non spoilerare ila non spoilerare ila ila non spoilerare io sono più indietro non spoilerare eccoci ma ma ok ok ci sta eccolo l'ubro no che è successo mi ha sentito un nuovo brawler ma oh mamma quanta roba madonna colonel rufs è il nuovo e si è bloccato non ci voglio credere dai in live ok ma tiene un doppio raggio i colpi rimbalzano ma che bella la super vediamo l'attacco si può stare la super e si è bloccata e si è bloccata ancora la super niente male ha spawnato un meteori ha spawnato un meteori a me si è ancora bloccato niente spoiler mi raccomando ok ok bella questa skin di beryl ma d4r trattino ry 1 ah c'è subito una skin per quel cane la wow space ox bull adoro mamma mia ma quell'arma di bull pensate averla già vi ma aspettate un attimo fatemi tornare un attimo indietro un secondo un secondo pensate aver visto delle delle robe aspettate raga abbiamo finito navigator colette abbiamo finito madonna navigator colette però ci sta ci sta ci sta dai ma si è attivata la chat dal vivo vabbè ci stanno queste skin raga navigator colette e dark lock spike non mi piace last challenge ma raga raga un attimo che cos'era quella skin di lu allo car questo dovrebbe essere tipo carl pirata nero c'è carl pirata oscuro più o meno è come carl buca nere però è un po' scuro diciamo ma 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 questa di lu ma che cos'è ah no questa è la championship se non abbiamo vinto la championship niente cioè questa non la non la possiamo vedere no però non si deve bloccare cioè perché sennò non ha senso ok bello lo sfondo c'è un nuovo tasto ah si nuovi oh che cos'era quella 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 quel cerchio grande attorno a pocio un attimo solo ok ah si mamma mia ok nuovi gadget cosa ah nuovi pins animati cosa allora altri sei brawler con dei pin animati e poi ho visto dei pin della mischia lunare oh mio dio ci sono sei pin animati della mischia lunare quelli devo avere se c'è un pacchetto reazione lo prendo be sure to subscribe to catch all the news coming and to see each other again in marzo a marzo e niente raga questo è vabbè vabbè diciamo che diciamo che non è che ci hanno dato così tante cose che ne pensi ci hanno dato vabbè si il nuovo brawl pass le skin il nuovo brawler e basta e basta quindi non so però vabbè vabbè dai ci vediamo al prossimo video spero che vi sia piaciuto e ciao ciao